Il mercato del lavoro in Piemonte mostra segni di ripresa, raggiungendo un tasso di occupazione del 68% nella fascia di età 20-64 anni. Lo rileva il bilancio sociale 2015 dell'Inps piemontese, presentato a Palazzo Lascaris, che offre uno spaccato dei fenomeni e delle tendenze che la società vive nell'incrocio tra dinamiche del mercato e politiche di welfare redistributivo.